Mi chiamo Denise e ho una cosa da dirti. Io sono nata e cresciuta nella chiesa, ma a volte pensavo che Dio non era presente nella mia vita, finché un giorno praticamente ero andata in macchina con la mamma di una mia amica per andare al mare, ma lei improvvisamente si è addormentata al volante e la macchina è iniziata a sbandare. Ha perso il controllo e avevamo pochi minuti, sicuramente sarei morta e in quei pochi istanti l'unica cosa che ho fatto è che ho iniziato a pregare. Ho detto se tu mi salvi signore io darò completamente il mio cuore a te. Praticamente siamo usciti intatti, non ci siamo fatti niente, siamo salvi tutti quanti e adesso ho deciso di dare il mio cuore al Signore e spero che lo fai anche tu. Ciao!